Roberto Mercuri, 24 anni, stedino dell'Ordine, non so passi perfilato irregolare, ha inseguito, raggiunto, è ucciso dal nostro mobilista Sergio Vittorio, di 60 anni, commerciante, e anche dunque il primo gennaio 1984, al semafora di Cossol Bassano, angolo piazza Cattaneo. No, non c'è la scelta della niente, c'è la scelta della protezione, è il prezzo di istituzione, è il prezzo di istituzione, è il prezzo del bagno, un'arma c'è lente. Dovessi. No, non c'è lente, c'è lente. No, non c'è lente, c'è lente付ige, ha inseguito, grazie ad un'arriglia, che non c'è lente. No, non c'è lente, qua non c'è il teatro, ok. No, non c'è lente non c'è lente, tu non c'è il prezzo del dogma, però non c'è lente. No, non c'è lente, non c'è lente. Grazie a tutti. Grazie a tutti.